Musica Vestire il corpo in un percorso arritroso, liberandosi di tutti i diktat imposti dalla moda e dallo star system. Sfilata evento di Pietro Paradiso nel chiostro del palazzo comunale di Gioia del Colle. In passarella riflettori puntati sull'anima della donna vestita in primis dalle poetiche e profetiche affermazioni scaturite dal pensiero del ricercatore in antropologia personalistica esistenziale Francesco Zizzi e dello stesso Pietro Paradiso. Musica Devo dire che l'anima prima va svestita. Col corpo possiamo fare quello che vogliamo. Vestire l'anima significa davvero sapersi conoscere, riuscire a conoscersi. E io credo che attraverso un abito davvero possiamo affidare la possibilità di conoscerci. Fino al profondo. Le donne hanno un'unica necessità, non è quella di sentirsi belle, è quella di essere belle. E questo si comincia davvero dall'anima. Un bell'abito trasporta soltanto quello che noi siamo dentro. Musica A fare gli onori di casa della serata, presentata in conferenza stampa al Comune di Gioia, la collega di TG Norba 24, Daniela Mazzacane. Protagonisti di Un abito per l'anima, le modelle selezionate dalla Carmen Martorana e Venti, muse ed interpreti della linea Alchimie Saracene di Pietro Paradiso. Abiti reinterpretati in chiave introspettiva per l'occasione, rendendo la proposta dello stilista gioiese assolutamente unica e vincente. Il verbo impreziosisce e veste non solo il corpo, ma anche l'anima. Musica Noi siamo abituati ad affollarci un po' di pensieri, tra quelli negativi e il pensiero positivo serve proprio per dissolvere quelli negativi. Questo metodo che si chiama metodo di affermazione di specchio dell'anima ha un punto di avvio diverso. Abbiamo messo insieme un po' quella che è la cultura anglosassone occidentale a quella orientale, che è basata sulla meditazione e spesso e volentieri, quindi ha come base questo aspetto. Ho voluto fonderli in un'unica metodologia ed è venuta fuori questa meraviglia con Pietro. Ospite d'onore della serata Yushiman, tra le imprenditrici cinesi più all'avanguardia nel settore dell'alta moda e terza donna manager del paese asiatico. Lo scorso anno Pietro Paradiso è stato suo ospite a Pechino, in uno showroom che ha permesso allo stilista pugliese di conquistare l'Oriente con la raffinata eleganza delle sue creazioni. Lo stilista di Gioia interpreta infatti un'alta moda vestita con originalità, dai tagli geniali ed ancor più ingegniosi drappeggi, scolpiti in esotici tessuti che rendono il suo stile unico ed inconfondibile. E' stata un'esperienza sorprendente anche perché quando Pietro è venuto nel nostro showroom ci ha mostrato il connubio tra tradizione, tra storia e l'aspetto contemporaneo della moda. E ogni volta per me Pietro è una sorpresa. Apprezzatissimi gioielli in corallo creati interamente a mano dall'estrosa designer barese Rosa Ladisa, selezione della sua apprezzatissima collezione Pizzi Preziosi. Protagonista della serata una linea completamente nuova e audace, capace di catturare l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Cammei, gufi, personaggi fiabeschi, il corallo declinato in tutte le sfumature del sogno e della fantasia. Pizzi preziosi e sinonimo di stile ed eleganza, assoluta certezza di indossare un pezzo unico. Altro tocco di classe, i gioielli ideati da Giulio Cerqua di Civico 76, pensati per valorizzare le creature di Pietro Paradiso. Special guest ai Ducci che ha regalato alla platea un salto indietro nel tempo con la hit campione d'incassi Dragostea d'Intei. Molto apprezzato anche un brano sacro dedicato a San Nicola, un omaggio alla Puglia, sua seconda patria. Tra le indossatrici di Carmen Martorana, Pietro Paradiso ha scelto la sua testimonial, che si è aggiudicata un contratto con la Maison Gioiese per un anno. Platea entusiasta e plauso per il sindaco Donato Lucilla, che ha patrocinato la manifestazione. Un format con la regia di Massimo Cerbero, che sarà ben presto protagonista al White Milano, durante la fiera della moda. L'ingegno pugliese ancora una volta conquista la ribalta nazionale.